Sei pronto? Andiamo. Teckel o Tunnel? Tunnel. Tortu o Jacobs? Tortu. Sinner o Berrettini? Sinner. Cinema o Divano e Film? Cinema. Prison Break o Breaking Bad? Prison Break. Pizza o Polenta? Polenta. Instagram o Twitter? Instagram. Mare o Montagna? Mare. Eurovision o Festival di Sanremo? Eurovision. Chitarra o Pianoforte? Chitarra. Videogame, sparatutto o sportivo? Sparatutto. Lebron James o Gianni Santetokoun? Lebron James. Bionde o Brune? Bionde. Manica lunga o corta? Corta. Grande Fratello o Isola dei Famosi? Nessuna di due. Dolce o Salato? Salato. Giacca o Tuta? Tutta. Harry Potter o Pirati dei Caraibi? Harry Potter. Max Pezzali o Fabio Rovazzi? Max Pezzali. Bergamo Alta o Bassa? Alta. La bellezza, dai. Liga Bue o Vasco Rossi? Liga. Guanti sì o guanti no? No. Treno o aereo? Aereo. Caffè o cappuccino? Caffè. Alpacino o Robert De Niro? Robert De Niro. X-Men o Avengers? X-Men. Fantacalcio sì o Fantacalcio no? No. Gol al Genoa o gol alla Sam? Entrambi. Genova la prima, subito. Va bene, grazie. Grazie.